C'era questa situazione a Napoli virtuosa al Comune di Napoli e mi iscrissi online, richiesi il preventivo e rispetto alla polizza presente che ho lasciato di corsa perché è improponibile, peraltro ho anche un'altra macchina, però una sola ho fatto con te, ho risparmiato circa 340 euro. A nove mesi dall'avvio della convenzione tarifaria RCA Napoli virtuosa, messa a punto dal Comune per porre un freno al problema del caro assicurazioni, supera già il milione di euro il risparmio dei cittadini che hanno aderito all'iniziativa dell'assessorato diretto da Marco Esposito. E rispetto alla rilevazione media dell'Ivas, circa 1200 euro nell'ottobre scorso per assicurare la propria auto nella classe di massimo sconto, i napoletani virtuosi che hanno aderito alla convenzione e sottoscritto la polizza assicurativa con la compagnia britannica Conte.it ne spendono circa 350 euro in meno. Hanno un risparmio sui nostri premi che sono in generale molto convenienti per il nostro modello di business che è pensato per offrire l'assicurazione auto conveniente, hanno un sconto ulteriore del 20% grazie all'iniziativa e mediamente pagano meno di 700 euro. Molte persone che hanno fatto il preventivo sono andate dalla propria compagnia e hanno ottenuto uno sconto anche significativo. Quindi abbiamo messo in moto il meccanismo. Per la prima volta dopo 15 anni a Napoli i prezzi stanno scendendo. È un primo passo, ovviamente ce ne vorranno molti altri, ma era importante dimostrare che fosse possibile farlo, che fosse possibile trattare meglio le persone corrette che come sappiamo sono la maggioranza. Positivo dunque il bilancio dei primi mesi di sperimentazione dell'RC Auto Napoli Virtuosa, a cui, lo ricordiamo, si può aderire solo se in regola con il pagamento della Tarsu 2010. E per il prossimo anno, fa sapere l'assessore Marco Esposito, la convenzione sarà rinnovata con un ulteriore aumento dello sconto, dal 20 al 25%, e con l'obiettivo di rendere più semplice il procedimento. Tante volte in questa città ci siamo sentiti dire che o eri corretto e facevi la figura del fesso, o eri scorretto, dovevi fare il furbo per ottenere i tuoi diritti. Invece noi vogliamo dimostrare che essere corretti paga ed è il segnale civico più bello che si possa dare. La polizza assicurativa Napoli Virtuosa non si applica ai ciclomotori e alle auto di servizio. Il Comune lancerà nei prossimi giorni un avviso pubblico per attivare tariffe a prezzi ridotti anche in favore dei tassisti napoletani. Tra pochi giorni lanceremo un avviso pubblico a tutte le compagnie italiane per una convenzione tariffaria specifica per i tassisti napoletani, il meccanismo ovviamente sarà un po' diverso perché i tassisti sono un numero ben noto al Comune, ovviamente sono quelli autorizzati, un po' più di 2.000, l'idea è quella di fare una convenzione che preveda anche la franchigia.